Due parole, la Fondazione CEDEC ha sposato immediatamente la proposta di Fausto Ciuffi di organizzare un comitato, non solo per onorare o per ricordare, ma per ragionare sui concetti storiografici, sui percorsi che Klaus ha seguito nel corso dei suoi decenni, Fausto ha parlato molto di memoria, io poi scorrendo il programma la parola memoria, per fortuna, la trovo pochissimo, anzi non la trovo per niente, la trovo soltanto nel nome di Viale delle Rimombranze, che è il luogo dove siamo, e trovo che sia un aspetto positivo, perché qui parliamo da una parte di storia, di ricerca storiografica, ricerca d'archivio, ricerca fondata sulla documentazione, certamente sulle testimonianze orali, che sono memoria, ma che, come ci insegna Liliana Picciotto, magari ne parlerà domani, diventano storia solo se maneggiate in un certo modo, e però parliamo di concetti che sono concetti molto vivi nel presente, se parliamo di fuga, se parliamo di esuli, se parliamo di profughi, è chiaro che sono delle dinamiche che ci fanno dire, la storia ci serve a qualche cosa nel presente, e credo che Klaus avesse in testa questo, quando in qualche modo lavorava alle vicende di Villa Emma. Grazie moltissimo all'intervento dell'assessore Andrea Zoboli, perché ha dato, di nuovo, un senso tangibile dell'effetto che il lavoro dello storico può avere sulle vicende di una comunità, e non era come in genere, a volte è non qua, dove non è capitato di sentire delle parole retoriche, ma sempre soltanto parole piene di senso, ma a volte le autorità politiche e amministrative. Detto questo, io ho il piacere di dare la parola per la relazione introduttiva all'amico Carlo Spartaco Capogreco, che è stato parte attiva nell'organizzazione di questo incontro, di questo convegno. Carlo Spartaco insegna all'Università di Calabria, è anche medico, ed è uno dei, secondo me, il maggior esperto di campi di prigionia in Italia, e un carissimo amico di Klaus, a cui ha riservato la sua nota introduttiva. Sono contento di essere qui e mi sarebbe piaciuto moltissimo parlare di Klaus così, raccontare le nostre scorribande, insomma anche affrontare lo stesso tema, ma ho preferito, a ruota libera diciamo, ma ho preferito comunque prendere degli appunti per non farmi trascinare e portare via anche dall'emozione e dalla troppa vicinanza che c'era tra me e lui. Quindi mi avete voluto dare questo incarico, bontà vostra, gli organizzatori, tra i quali peraltro io, Liliana, ce l'ho qui di fronte, ho cercato in tutti i modi di sottrarmi, ma lei in particolare ha tirato dritto e proverò perciò a tratteggiarne alcuni momenti di questo tema. Il tema è Klaus Vogtelitalia, ma il titolo iniziale virgolettato è una frase, da una frase che appartiene a Klaus e lo scoprirete alla fine della relazione, la Valle Verde e la Cascina. Proverò perciò a tratteggiare alcuni momenti di questo rapporto senza minimamente pretendere di poter essere esaustivo, poiché come tutti sappiamo il tema Klaus Vogtelitalia racchiude per davvero un'infinità di aspetti e situazioni tutti quanti importanti e significativi, visto che l'Italia, sua seconda patria, è stata secondo me anche laboratorio e sintesi del pensiero, delle aspirazioni, delle ricerche e forse anche, mi azzarderei a dire, della vita stessa di Klaus Vogt. Un uomo che oltre che grande intellettuale, ricercatore ed organizzatore culturale, è stato non da meno un formidabile e instancabile costruttore di ponti e di relazioni, un tessitore di legami il cui rapporto con l'Italia potrebbe essere letto in fondo come modello o metafora del più generale percorso di vita dell'uomo e dello storico cui eravamo così tanto legati e che da un anno tanto ci manca. Un rapporto a tutto tondo, quindi quello di Klaus con l'Italia, che rappresenta, a mio parere, la vera essenza della straordinaria lezione da lui consegnatici con i suoi libri, con i suoi progetti, che talvolta potevano apparire visionari e troppo pretenziosi ma che messi alla prova dei fatti sarebbero risultati sempre vincenti e bene ancorati a terra. Per parlare delle interazioni di Klaus col nostro Paese ritengo sia pressoché obbligatorio iniziare il discorso dalla possente e salutare ventata d'aria fresca che attorno alla metà degli anni ottanta portò in Italia quel virgolettato ragazzone alto e robusto con gli occhi e lo sguardo da bambino e qui cito da un ricordo fatto alcuni mesi fa in questa sala da Alberto Cavaglion. Questo appunto ragazzone alto e robusto con gli occhi e lo sguardo di un bambino ha portato una ventata salutare di aria fresca arrivando da noi quale storico dell'esilio dai Paesi sotto dominazione nazista giunti nell'Italia di Mussolini quando essa non era ancora ufficialmente antisemita. Questo perché l'importantissima pagina di storia che lui stava indagando e che avrebbe contribuito notevolmente ad ampliare le conoscenze sui caratteri del fascismo e sulle sue pratiche discriminatorie persecutorie era pressoché sconosciuta e faccio qui un'altra citazione come se non fosse logico che una persecuzione di norma quindi anche nell'Italia fascista colpisca più duramente le persone di altra nazionalità le quali quindi ha bisogno di una più marcata attenzione storografica come ha scritto recentemente Michele Sarfatti. In Italia Klaus mise piede per la prima volta a circa vent'anni entrando in bicicletta dalla Francia come mi soleva raccontare sorridente e con un piccolo e con un pizzico di orgoglio per poi tornarci con il passare degli anni sempre più spesso e volentieri. Quando lo conobbi personalmente nel settembre dell'84 eravamo nella vecchia sede del CEDEC di via Eupili entrambi intenti a fare ricerche era alle prese con la stesura del primo volume del rifugio il rifugio precario. I due tomi sarebbero apparsi a Stoccarda rispettivamente nel 1989 e nel 1993 mentre io stravo ricostruendo la storia del campo di Ferramonti un argomento che evidentemente aveva molto in comune con gli emigranti e profughi ebrei giunti in Italia di cui si stava occupando Klaus. In quel periodo quanto alla storia e alla memoria del nazifascismo e della Shoah e quindi anche dell'internamento fascista se vogliamo nel nostro paese il sentire collettivo era come noto ben lontano da quello odierno. Il muro di Berlino non era ancora caduto eppure da venire era ancora il cinquantenario della promulgazione delle reggi razziali fasciste. Quel 1988 che pur tra tante contraddizioni si sarebbe posto per molti aspetti a cavallo tra il modo di sentire di prima e quello di dopo. Anche per questo il ritrovarci allora con Klaus a lavorare su temi molto affini oltre che creare una forte e immediata condivisione culturale diede anche un particolare sapore e significato alla nostra amicizia personale allora nascente. Egli che aveva conseguito il dottorato in storia e filosofia alla frai università di Berlino con una tesi in storia medievale pubblicò nel 1984 proprio in Italia e proprio nella lingua italiana il suo primo articolo sugli immigrati e profughi tedeschi nel periodo fascista. L'anno prima nel catalogo di una mostra franco tedesca da lui coordinata aveva scritto di esoli di un'altra epoca gli ugonotti e i valdesi rifugiatisi in Germania a partire del 1685. Ancora nel 1985 un altro scritto sull'esilio nel novecento di Klaus sarebbe apparso sulla rivista storia contemporanea diretta da Renzo de Felice cosicché in Italia cominciò ad essere conosciuto ed apprezzato tra gli addetti ai lavori prima ancora dell'uscita della sua pubblicazione più nota e importante Il rifugio precario appunto il cui primo volume nella rigorosissima traduzione di Loredana Melissari sarebbe apparso da noi nella prima metà degli anni novanta. E ben presto vista la novità delle sue ricerche e l'impatto che avevano sulla conoscenza del periodo fascista cominciarono in tanti ad invitarlo a convegne e conferenze. All'epoca Klaus parlava già discretamente l'italiano, una lingua che da autodidatta o con l'aiuto della madre insegnante di lingue aveva iniziato a parlucchiare fin da giovanissimo. In Italia, seppure di volata, come già detto, era venuto per la prima volta nel 1958. Poi, nei primi anni Sessanta, la sua famiglia, con in testa la zia Carlotta Wolfhardt, dal carattere forte e determinato, comprò un lotto di terreno a Terracina in un vigneto non distante del mare. Lì, poco dopo, sul progetto di un amico architetto, realizzò un'accogliente villetta che non avrebbe potuto chiamarsi altrimenti che Casa Carlotta. E da allora in poi, quasi ogni estate, Klaus prese a trascorrere un vesetto di vacanza, giungendo generalmente ai primi di luglio, insieme ovviamente alla zia, che sarebbe scomparsa nei primi anni 90, e a mamma Gualtrud, venuta a mancare nel 2011 all'età di 103 anni. In virtù di questi contatti, oltre che per le sue tante letture e i soggiorni anche non balneari nella penisola, il primo dei quali di una certa lunghezza fu a Dischia nel 1959, da giovanissimo e poi successivamente da ricercatore, soprattutto a Firenze, a partire dalla metà degli anni 60, l'italiano di Klaus, parlato sino all'ultimo con la sua caratteristica inimitabile intonazione straniera di cui eravamo tutti affezionati, è continuamente migliorato e di pari passo è cresciuto il suo legame, il trasporto personale per il nostro Paese. Anche perché, come dice bene Liliana Picciotto, egli preso da una sete inesauribile di arte, cultura e bellezza, amava l'Italia proprio per la capacità del luogo di colmare questa sua sensibilità. Il primo soggiorno di studio di Klaus in Italia lo trascorre tra il 1965 e il 67, grazie ad una borsa ottenuta per lavorare alla tesi di dottorato, incentrata sulla visione della Germania risultante dai rapporti dei viaggiatori umanisti italiani, da Petrarca ad Andrea De Franceschi, che vi sono recati nel 3400. Abitò allora in via dei Benci, a Firenze ovviamente, all'angolo con Piazza Santa Croce, ma durante quella permanenza di una decina di mesi si recò anche all'archivio di Stato di Modena e alla Biblioteca Vaticana a Roma, dove alloggiò al convitto valdese. A Roma rimase per circa un mese e quella fu la prima visita alla città eterna, perché quando vi era passato in treno per andare a Ischia otto anni prima, cito un suo racconto, non si sentiva ancora pronto per compiere quella visita a fronte del grande peso evidentemente di arte, di storia e di cultura che promenava da Roma. Concluso il dottorato, lui discusse la tesi nel 1969 per poi pubblicarla in volume nel 1973. Claus, nonostante il buon rapporto mantenuto con il suo relatore, capì che l'ambiente dei medievisti non era il suo e non volle proseguire in quel settore. Si trasferì allora in Francia, dove cambiando linea, come diceva lui, lavorò fino al 1975 in un ambiente contemporaneistico. Il primo anno come lettore universitario annansì gli altri cinque nella nuova e per lui molto invitante ed eccitante realtà universitaria parigina nata nel 1971 ad Asnier la cosiddetta nuova Sorbona, nella quale dal 1973 al 75, oltre che come lettore, Claus fu anche assistente all'istituto tedesco della stessa università in una materia, possiamo dire, trasversale, denominata civiltà tedesca, nella quale però lui seguì molte tesi, che erano tutte tesi di storia dell'età contemporanea. Fu quindi in quel periodo parigino a cui Claus sarebbe rimasto sempre molto legato, che egli effettivamente iniziò ad occuparsi di storia contemporanea. Tuttavia è molto singolare e rivelatore del legame con l'Italia e con la sua storia, il fatto che il suo passaggio in ambito contemporaneistico in qualche modo sia stato fin da subito collegato da lui al nostro paese, visto che nel 1974 egli fu cofondatore di un'associazione tuttora esistente di studiosi tedeschi impegnati nella storia contemporanea dell'Italia, tuttora esistente in varie consedi in varie università tedesche. E all'Italia, ancora di più, è legata anche l'individuazione di quella che per Claus Fogg sarebbe stata la sua fondamentale e definitiva tematica di studio sull'esilio tedesco nel periodo che va dal 1933 al 1945. Difatti, dell'esistenza di una tale emigrazione sotto il regime fascista, egli era venuto a conoscenza per la prima volta proprio mentre si trovava nel nostro paese alla metà degli anni Sessanta. Era stato allora dagli incontri fiesolani con Otti Biswagner, la nipote di Otto Lilienthal, il pioniere berlinese dell'aviazione, e di suo marito ebreo, che aveva preso molte notizie in merito e proprio da quei racconti ascoltati a Fiesole, mano a mano, sarebbe nata in noi l'idea, come ha scritto Claus stesso, di deducarsi più approfonditamente alla ricerca sull'esilio in Italia e poi a scriverne. In particolare, l'input italiano degli anni Sessanta si sarebbe ravvivato e rafforzato nella Parigi del decennio successivo, dove egli abitò presso una famiglia di origine spagnola, il cui capostipite si era rifugiato in Francia nel 1939 in fuga dal franchismo, e dove ebbe modo di frequentare altri esoli dalla Germania nazista, in particolare la berlinese Ruth Fabian, gravitanti tutti quanti attorno alla libreria Calligran. Nel 1976, concluso il periodo francese e rientrato in Germania, per l'impossibilità, questo per l'impossibilità di tecnica, diciamo, di rinnovare il suo contratto e anche per le difficoltà che lui racconta in altra sede, diciamo, di poter entrare nella carriera universitaria francese, Claus attraversò una, rientrato a Berlino appunto, attraversò una delicata fase di incertezza e di riflessione sul proprio futuro, durante la quale fece diversi lavoretti occasionali. Tuttavia, poco dopo, vinse un concorso bandito dal neonato Istituto Universitario Europeo di Fiesole, il quale proprio allora avviava i propri corsi e le attività di ricerca, che cercava un collaboratore per l'edizione di documenti sulla storia dell'integrazione europea. E quella bella e inaspettata evenienza, oltre che ridestare la sua voglia di fare, ebbe in un colpo solo anche l'effetto di avvicinarlo ulteriormente sia all'età contemporanea che all'Italia. Italia che in quel momento sembrava delinearsi per Claus per una serie di ragioni, non ultimo il fatto che quella dell'esilio tedesco durante il fascismo era anche storia italiana, come una sorta di imprescindibile chiave per il suo futuro. E con questa sensazione, oltre che con enorme piacere, egli rimetteva piede in Toscana nel 1977. All'Istituto Universitario della Badia Fiesolana, egli fu stretto collaboratore di Walter Lipgens, studioso alquanto noto nell'ambito degli studi europeisti, ma con il quale Claus non ebbe in verità un rapporto molto facile, che allora dirigeva un'opera imponente e da più voci sulla storia dell'integrazione europea. Un lavoro imponente, dicevo appunto, al cui primo e secondo volume Claus partecipò, oltre che con la cura che alla cura redazionale, per la quale peraltro, e alle traduzioni per le quali peraltro lui era stato in quel momento temporaneamente assunto, anche con due suoi lunghi saggi in lingua inglese, incentrati su alcune particolari visioni del dopoguerra in Europa. Due scritti quindi del Fogt antirifugio precario, rispettivamente del 1985 e del 1986, rimasti poco conosciuti nell'ambito della storia complessiva, nell'ambito della complessiva produzione scientifica del nostro, ma i cui contenuti, uno guarda caso relativo all'Italia, il primo, e l'altro guarda caso relativo all'esilio tedesco, risultano estremamente indicativi per comprendere l'evoluzione e la maturazione dei suoi studi e della sua visione politico-culturale. In relazione al tema Claus Fogt e l'Italia, a cui si riferiscono queste mie brevi note, ha un grande significato, come fatto recentemente notare anche Michele Sarfatti, il suo scritto, lo chiamo così, scritto Fiesolano numero uno, quello appunto del 1985, perché oltre a confermare la svolta foittiana verso la storia contemporanea, rappresenta il primo saggio dedicato esprettamente all'Italia, in particolare esso era dedicato alla visione della resistenza italiana per l'Europa del dopoguerra. E seppure il titolo, a leggere il saggio, Idee della resistenza italiana, non mi pare molto ben centrato, perché lui si riferisce soprattutto al primo antifascismo e anche al federalismo, ma chiaro che resistenza è messa in senso lato, comprendendo anche gli antifascisti della prima ora. La scelta dell'argomento in ogni caso non deve sorprendere, perché la resistenza e l'antifascismo nella visione di Claus dell'Italia costituivano da sempre un momento centrale, un dato per così dire familiare, mediato dalla bella figura della scultrice Jenny Wegman Mucchi, più nota col semplice nome di Jenny in Italia, poi quando è stata dal 34 in poi, tedesca di nascita ed italiana di adozione, una zia di Claus che nella Parigi degli anni 30 aveva sposato in seconde nozze il pittore e l'architetto italiano Gabriele Mucchi e che trasferitasi con lui a Milano nel 1934, dopo l'8 settembre 1943, aveva operato nella resistenza come staffetta partigiana. Jenny e Gabriele Mucchi, ha scritto infatti Claus nella prefazione al secondo volume del suo Il rifugio precario, ad ambedue dedicato, mi hanno aiutato molto a comprendere l'Italia, specie la resistenza, alla quale entrambi hanno preso parte. Le mie conversazioni con loro, fin dai tempi in cui ero ancora studente, costituiscono il primo punto di partenza di questo libro. Quindi è una confessione esplicita, una dichiarazione esplicita. Claus concluse la sua collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo nel 1980, ma già nell'ottobre di quell'anno, presso l'Istituto di Studi Storici della sua Università a Berlino, propose all'Agenzia tedesca di finanziamento della ricerca, il CNR tedesco, un articolato progetto sull'esilio tedesco nell'Italia fascista, argomento nuovo e sconosciuto anche per il suo paese. In Germania, dall'arrivo dei socialdemocratici al governo, si dava finalmente spazio alle ricerche sull'esilio politico e razziale durante il nazismo. Il clima politico era perciò favorevole a tal'iniziativa. Anche per questo Claus pensò che fosse ormai arrivato il momento di compiere il passo, di fare la sua grande ricerca, di proporre quantomeno la sua grande ricerca, anche se per un attimo era stato un po' preso dall'idea di scrivere un libro su Ignazio Silone, ma era difficile perché, diciamo, i fondi erano tenuti ancora riservati. Ha scritto comunque un saggio in quel periodo ed era molto affascinato dalla figura di questo scrittore. Nel 1989, a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino, grazie ad una borsa Giamonet dell'Istituto Universitario Europeo, Claus ritornò per un anno in Italia dove proseguì il lavoro per il secondo volume del Rifugio, che sarebbe apparso nel 1993. Questa volta abita a Coverciano, dove ha preso casa fin dalla primavera, ma farà spesso la spola tra la Toscana e l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, ed in tali occasioni, per la sua relativa vicinanza all'Eur, Casa Carlotta diverrà ancora una volta, come era successo spesso negli anni precedenti, una comoda testa di ponte per i suoi lunghi periodi trascorsi a lavorare all'Archivio Centrale dello Stato. Quello che però abbiamo ora di fronte è ormai un nuovo Claus Vogt, uno storico contemporaneista già molto stimato ed apprezzato, che oltre al primo volume del suo Zufluck Tauwideruf ha al suo attivo una ventina di articoli di storia contemporanea pubblicati in varie lingue a partire dal 1980 ed incentrati sul tema dell'esilio tedesco e sulla storia dell'idea di Unione Europea. È la data del 1980 che indico qui come quella iniziale degli scritti di De Voigt d'argomento contemporaneistico, fa riferimento di fatti al suo saggio sulle riunioni federaliste tenutasi a Ginevra nel 1944. Tra i suoi nuovi progetti della primavera del 1989 si stava concretizzando l'idea avanzata a Claus dallo storico dell'arte Wolfgang Hensee di organizzare una mostra che presentasse le opere di artisti, Claus stesso che è qui che lo dice, di astristi, scrittori e studiosi che durante la dittatura nazista avevano dovuto abbandonare la Germania. Fu proprio in Italia, a Milano, che si costituì un gruppo di amici sostenuti, sostenitori di quell'idea e fui anch'io presente a qualcuna delle prime entusiastiche riunioni nella Cascina Noce di Vaprio d'Adda, che era stato il laboratorio di pittura e ceramica dell'artista degenerato, tra virgolette Roland Hetner, e grazie soprattutto al sostegno dell'Accademia del Kunst e del Consolato tedesco a Milano che Claus si era saputo conquistare, quell'ambizioso progetto, come sappiamo, poté alla fine realizzarsi e la mostra, con il patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana e di quello della Repubblica di Germania, venne inaugurata l'8 marzo del 1995 a Milano e poi proseguì come da programma per Berlino, dove rimase dal 29 agosto al 22 ottobre del 1995. Poco tempo dopo, per Claus ricercatore, si sarebbe aperta la nuova importantissima pagina italiana di Nonantola, che lo avrebbe impegnato per tutto il resto della sua vita, pagina della quale per ovvie ragioni eviterò di parlare anch'io in questa sede ovviamente, come eviterò parlare anche delle collaborazioni con gli altri enti. E tutto ciò avveniva mentre paradossalmente Claus, il più antiretorico e meno istituzionale tra gli studiosi che io abbia mai conosciuto, stava diventando dalla metà degli anni 90 in Italia, una sorta di istituzione, egli stesso. Di certo, come ricordava Lutz Klinkamer l'anno scorso a Firenze, alla già citata giornata fiorentina del 28 ottobre, in ricordo di Claus, diceva Lutz Klinkamer, per la storiografia tedesca che si è occupata della storia in Italia, egli era divenuto allora una persona importantissima, uno dei più conosciuti studiosi tedeschi in Italia, quasi una istituzione senza avere alcuna istituzione dietro di sé. Ma se evito dovedosamente di parlare dei rapporti istituzionali intessuti da Claus, non posso esimermi dal dedicare alcune righe, e vado a concludere, alla variegata rete di contatti ed amicizie nei quali il piano amicale e quello professionale molto spesso erano collegati e comunicanti, intessuta da lui in Italia grazie alla mente aperta alla predisposizione al viaggio e al carattere incline a nuove conoscenze. Dai primi anni 90, anche per il notevole movimento creatosi con l'organizzazione e la presentazione della mostra sul rifugio, la crescita della cerchia degli amici e dei rapporti intrattenuti sarebbe divenuta per lui quasi esponenziale. Ad un certo punto egli, che non era mai appartenuto a chiese o cordate, si rese conto che la sua rete, cementata da forti e sinceri rapporti di stima e di condivisione intellettuale, si snodava ormai dall'Alto Adige fino alla Calabria e di essa, oltre che consapevole, Claus divenne anche molto orgoglioso. Era per lui come avere a disposizione a Milano, a Vaprio, a Verona, a Roma, a Cosenza, a Cagliari, a Nonantola, a Bolzano e in tempi più recenti anche a Lucca, ad Imperia, delle basi territoriali che lo accoglievano e gli offrivano affetto ed energia, allertate per tempo ad ogni suo sempre graditissimo arrivo. E quelle basi, tutte presidiate da sinceri amici e colleghi conosciuti in battaglia, come diceva lui, quasi parte, gran parte dei quali evidentemente sono, siete presenti oggi in questa sala, andarono ad aggiungersi ai precedenti storici punti di riferimento italiano di Claus, quasi quali soprattutto Terracina, Firenze e Ischia. Nicola Barbato, primuroso e intelligente referente della base clausiana di Lucca, mi permetto di chiamarla così, in un bellissimo ricordo del nostro pubblicato qualche mese fa sulla rivista Documenti e Studi, ha definito Claus Vogt un tedesco perso in Italia, riecheggiando evidentemente le parole scritte da Antonio Labriola nel 1893 a Friedrich Engels. Non credo tuttavia a giudicare dall'anzidetta impressionante mole di relazioni e di realizzazione da lui portata a termine che in Italia Claus si sia mai sentito perso. Perciò lo definirei semmai un tedesco immerso in Italia, visto che come ci mostrano la sua opera e il suo vissuto, egli è pienamente ed armoniosamente infilato nella storia e nella cultura e nella vita pulsante della società italiana. Meglio ancora lo definirei un tedesco italiano, maturando la definizione coniata a suo tempo per il pittore ceramista tedesco Roland Hetner, uno di cui quadri sta sulla copertina del secondo volume del rifugio, e il cui figlio Floriano, non a caso, che ci ha prematuramente lasciati nel 2004, per affetto e condivisione era divenuto una sorta di fratello italiano di Claus. So bene tuttavia che voler attribuire delle etichette proprie a Claus Vogt non ha senso a fronte del suo anticonformismo, della straordinarietà del suo percorso e al contempo della semplicità di un uomo e di uno star, di uno storico che volle sempre essere sempre, prima di tutto, una persona libera e un cosmopolita. Suppongo, questo è lui che scrive a me, suppongo che ai burocrati di Bonn non sia gradito che tutte le mie pubblicazioni, tranne due, sono uscite all'estero. Che stupido germano centrismo in un mondo di comunicazioni internazionali, questo lui scriveva il 27 maggio 1991. Certo è che, da quanto detto, risulta pressoché impossibile ricordare Claus Vogt senza al contempo parlare dell'Italia, una terra che seppure indirettamente figurava già nel primo libro da lui pubblicato nel 1973, che racchiudeva la sua dissertazione di dottorato, titolo tradotto in italiano, relazioni italiane dalla Germania tardo medievale, la dissertazione di cui ho già parlato, così come 19 anni dopo l'uscita di quel libro, l'Italia, in questo caso la rappresentazione simbolica dell'Italia, si presentò anche al momento della pubblicazione del primo volume del rifugio precario e fu causa di un duro confronto con l'editore. Claus, per la copertina, aveva pensato allora ad un'immagine dell'Italia mediata dal dipinto di un pittore ebreo tedesco fuggito da Hitler, mentre la casa editrice si era impuntata su una visione che potremmo definire da mulino bianco, che non faceva alcun riferimento alla presenza opprimente della dittatura mussoliniana e dalle sofferenze dei profughi, ma mostrava soltanto una verde vallata che sembrava ripresa dal mondo dei fumetti. Questo è stato un momento molto sfibrante perché l'editore non demordeva, ma Claus, questo era lui, neanche morto gliel'avrebbe data, ma è per vinta. Mi scriveva così da Berlino il 30 dicembre del 1988, mentre il braccio di ferro era ancora in corso. La casa editrice vuole fare una bozza di copertina con una grossa svastica che rotola su una valle verde, dove sta una cascina, simbolo per l'Italia. Il fascismo non c'è in quell'idilio fatto per turisti ignoranti tedeschi, ma peggio ancora la svastica dà fastidio perché è troppo grossa e perché non si collega al titolo, che non si riferisce evidentemente ad un'invasione tedesca. Spero che la mia protesta abbia successo. Alla fine Claus la spuntò per la sovracoperta del primo volume di Zuflut auf Wideruf, venne approvato il dipinto che lui aveva proposto, Zerstörung II, realizzato a Roma a pochi mesi dall'ascesa al potere di Hitler del pittore ebreo Felix Nussbaum, poi assassinato ad Auschwitz insieme alla moglie nel 1944. Un artista che, come pochi altri, ha saputo esprimere il dolore, lo straniamento e la disperazione dei profughi perseguitati. Altro che valle verde e cascina bianca. Il testo sul rifugio precario giungerà nelle librerie della Germania mostrando l'Italia fascista attraverso un'immagine cupa ma reale con sullo sfondo il Colosseo. Il dipinto in cui Nussbaum per la prima volta rappresentò l'orrore che provava allora egli stesso di fronte al futuro incerto e dalle crescenti minacce del nazifascismo. Un'immagine che sembra la perfetta traduzione pittorica dell'espressione rifugio precario, che grazie a Feuth è divenuta ormai quasi una categoria storiografica. È ovvio perciò che la piccola battaglia portata avanti da Klaus per la giusta rappresentazione dell'Italia sulla copertina del suo libro non rappresentava certamente per lui un semplice vezzo o una banale questione di grafica, bensì una precisa e non trattabile scelta di coerenza culturale e civile. Per noi un ulteriore non secondario tassello per comprendere la sua idea della storia italiana e la sempre vigile testimonianza antifascista di Klaus Fogg. A questo punto io darei la parola direttamente a Klaus Fogg che in un'intervista ha risposto ad alcune domande e è stato assegnato a Gianluca Guidotti la lettura delle parole di Klaus. Gianluca Guidotti è un animatore del gruppo teatrale Archivio Z insieme a Enrica Sangiovanni che hanno curato poi il programma per questa sera. Prego. Allora queste sono le domande che lui ha fatto in questa intervista quindi Klaus quando sei giunto in Italia per la prima volta. La prima volta che giunsi in Italia ero di passaggio nel 1958 ho fatto un giro in bicicletta attraversando la Francia e sono arrivato a Ventimiglia e poi ho percorso la costa fino a Genova. Da lì sono salito verso il nord ma quando sono arrivato vicino a Serravalle Scrivia quando ho fatto la salita c'era la nebbia c'era la pioggia giù a Genova c'era stato bellissimo tempo ma poi ha smesso improvvisamente. Ho trovato un camion che mi ha portato fino ad Alessandria e da lì ho spedito la bicicletta in Germania. Avevo pochi soldi e con quanto mi era rimasto sono riuscito solo a fare un biglietto ferroviario fino in Svizzera e poi ho proseguito in autostop. Avevo circa vent'anni e quella è stata la mia prima impressione italiana. La mia seconda volta è stata nel 1959. Ancora una volta ero con la bicicletta. Quando dalla Baviera mi sono spinto fino a Verona ero un po' ambizioso. A un certo punto c'era un gran temporale e mi sono detto vabbè lasciamo stare i treni non costano poi granché. Allora ho rispedito la mia bicicletta in Germania con la ferrovia. Queste cose erano ancora possibili a quei tempi e ho perseguito fino a Firenze dove sono rimasto tre o quattro giorni. Lì ho conosciuto una coppia molto simpatica, un pittore e sua moglie di Vienna con cui poi siamo diventati molto amici e poi proseguendo in treno verso Napoli. A Roma non mi sono fermato perché mi sono detto non sono ancora maturo. Per Roma ci vuole più intensità. Devo venirci un'altra volta. Mi sono fermato allora a Napoli e da lì sono andato a Ischia e ci sono rimasto quasi un mese. Ho dormito in un bosco vicino l'acqua a meno con il sacco a pelo. I cacciatori non erano molto contenti perché temevano di colpirmi durante la caccia. Ma poi ho trovato un contadino che mi ha dato una capanna e alla fine anche un ex amico di mia mamma che dirigeva un'organizzazione turistica il servizio viaggi Ischia. E lui mi ha dato alloggio in una sorta di camerata di guerra. Il periodo era ancora quello lì. Eravamo nel maggio del 59 dove lui stesso viveva con sua moglie. Ecco e allora io sono rimasto lì per circa una decina di giorni. Da ricercatore invece quando sei stato per la prima volta in Italia? È stato quando ho avuto la borsa di studio a Firenze nel 65 e 66 cioè l'anno prima dell'alluvione. In quel periodo ho fatto la tesi sui rapporti dei viaggiatori umanisti italiani in Germania nel 3400 da Petrarca ad Andrea Franceschi. È stata la mia tesi di dottorato. Ecco ritorna sempre quindi l'elemento del viaggio sia nei tuoi studi che nella tua vita. Sempre il movimento unito alla conoscenza. Sì ho passato dieci mesi a Firenze e ho abitato da una persona di origine calabrese. Ecco di nuovo ritorna il sud. Sono stato inquilino dalla signora Tedesco Loria con la quale poi sono rimasta in contatto per per tanti anni. Lei aveva due figli ed abitava al quinto piano di via de Benci all'angolo sopra piazza Santa Croce. Una bellissima posizione. Quando capito in Santa Croce guardo sempre quella finestra, la mia finestra. Lei faceva le pulizie ed affittava le camere. Questo è stato nel 65-66 il mio primo lungo soggiorno italiano da ricercatore. A Firenze avevo buoni amici tra cui Miroslavo Mirio Salvini, uno dei più grandi specialisti delle lingue egeo-anatoliche, figlio di Umberto Salvini, l'ex direttore degli uffizi. Nel 1966 poi sono stato anche un mese a Roma per ricerche di archivio e ho abitato al convitto valdese dove dovevo anche partecipare ad alcune cerimonie religiose. La tua prima volta a Roma, quindi sentivi di essere pronto ormai per Roma? Eh sì, è stata la mia prima volta, ero pronto. Sono rimasto un mese ed ho conosciuto Roma per la prima volta. E che tipo di ricerche hai fatto allora? Beh, facevo delle ricerche nella biblioteca vaticana sui manoscritti dei viaggiatori umanisti, tra i quali il più noto era Enea Piccolomini, papa più secondo, che ha passato quasi una vita in Germania ed ha fatto tante descrizioni sulla Germania di quel periodo. Ho studiato una ventina di autori e ho scoperto anche alcuni testi nuovi. E dopo Roma, dove sei stato ancora per quella ricerca? Nel 1967 sono stato a Modena dove, nell'archivio di Stato, ho scoperto alcuni scritti di umanisti ferraresi facenti parte della legazione giunta in Germania nel 1507 alla corte dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo. Poi li ho pubblicati su una rivista storica austriaca e rileggendo quel saggio dopo vent'anni sono rimasto stupito della mia preparazione in materia. Mi sono detto divertito. Dio mio quanto sono stato erudito un tempo. Tutto questo l'ho fatto nell'ambito della mia tesi di dottorato dopo l'esame tenuto a Berlino nel 1969 e non ho più continuato su quella strada. Il mio professore è un bravissimo medievista, un'ottima persona, ma io non mi sentivo più bene in quell'ambiente anche perché era il periodo del movimento studentesco e il nostro istituto è stato spesso devastato. Insomma erano altri tempi. Da mia mamma che era una professoressa di francese e aveva tanti amici in Francia ho saputo che c'era un posto vacante in Francia a Nancy per un lettore di tedesco e allora ho pensato ci vado. Lasciamo stare questa strada. E così sei andato in Francia e hai cambiato ambito di studio. Eh sì. E ci sono rimasto sei anni cambiando completamente linea di ricerca. E di che cosa ti sei occupato lì? Di storia contemporanea tedesca nell'ambito di una disciplina di studi germanistici che in Francia si chiama civiltà tedesca. In Francia sei stato sei anni mi pare sul finire degli anni 70. Sì. Da prima sono stato un anno a Nancy e poi sono andato a Parigi. Sono stato cinque anni a Paritois. È stato un bellissimo tempo con gli amici di quel periodo, quello che ho passato a Parigi. Di quali anni stai parlando esattamente? Sono stato in Francia dal 1969 al 75. Quindi hai vissuto un po' l'epoca del maggio francese. Sì. Sono arrivato l'anno dopo il suo avvio. E poi sei rientrato in Germania ponendo fine al periodo francese. Ho sospeso perché ormai ero senza posizione. Il posto di elettorato era limitato a cinque anni al massimo e poi eventualmente sarei dovuto entrare nella carriera francese. Quindi sei rientrato a Berlino. Eh sì. È stato molto duro. E per circa due anni ho fatto tanti lavori. L'interprete, il traduttore, la guida turistica. Ho lavorato per un'agenzia di viaggi berlinesi accompagnando spesso gruppi di circa 50 persone a Sorrento, in aereo fino a Napoli. Alcune volte seguivo anche viaggi in Germania. E non ti sei più avvicinato all'università tedesca. Per me, a quel punto, ritornare alla storia medievale, l'argomento della mia tesi di dottorato, non aveva più senso. D'altra parte all'epoca in storia contemporanea non avevo ancora sufficienti pubblicazioni. Sono diventato insegnante di storia contemporanea tedesca ma senza avere pubblicazioni di rilievo. Quindi non avrebbe avuto senso avvicinarmi all'università. E allora quale nuova strada ha intrapreso? Devo dire che la fortuna non mi abbandonò perché l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, nato qualche anno prima, che mi interessava molto fin dall'inizio perché io volevo ritornare a Firenze, nel 1976 cercava un collaboratore per l'edizione di documenti sulla storia dell'integrazione europea. Ho letto l'annuncio su un giornale. Ho concorso e la mia domanda è stata accettata. A questo punto siamo nel 76. Come ricordava prima Carlo il tempo passa e nel frattempo a metà degli anni 90 qui a Nonantola inizia a delinearsi il progetto voluto dal Consiglio Comunale che con preciso intento politico culturale era quello di avviare una ricerca storica sul gruppo di ragazzi di Nonantola e sui loro accompagnatori. Di seguito il sindaco Stefano Vaccari, su indicazione del centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, assegna l'incarico a Klaus che negli anni successivi svilupperà il suo lavoro in più direzioni e avrà il grande merito di restituirci l'articolazione complessiva di questa esperienza osservata nella sciana dei luoghi e delle nazioni che ha toccato, seguita lungo le vie di fuga, indagata nel complesso novero delle realtà e delle persone che ha coinvolto, ricostruita nelle fasi e nelle situazioni che i suoi protagonisti hanno vissuto tra il 40 e il 45, fino alla pubblicazione nel 2002, del libro Villa Emma Ragazzi ebrei in fuga, appunto, edito dalla Nuova Italia. E quindi, nella tua vita finalmente è qui che appare Nonantola. Eh sì, nel 1996-97, a distanza di quasi 30 anni, ecco che io entro nuovamente nell'archivio di Stato di Modena. Mi presento allora al direttore e dico buongiorno e lui mi risponde ma noi ci conosciamo. Io mi sento imbarazzato e gli dico ma come ci conosciamo? E lui poi mi ha spiegato quando lei ha fatto le ricerche qui nel 1967, io le portavo sempre i testi che richiedeva essendo stato assistente del direttore. È così che ci siamo conosciuti allora. E quindi si ricordava bene di te. Sì, ed è stata una cosa bellissima. Figurati, una memoria fantastica. Vabbè, non ci sono, credo, molti studiosi tedeschi che capitano all'archivio di Stato di Modena, ma comunque egli si ricordava di me. E questo mi ha aperto subito le porte. Allora mi ha spiegato che purtroppo i documenti della mia ricerca sui ragazzi di Villa Emma non erano stati versati ancora dalla prefettura all'archivio di Stato. Quindi poteva confermarmi che ancora non c'era niente di specifico sull'argomento. Ma al tempo stesso mi disse venga, venga, c'è comunque qualcosa per lei. E mi ha portato un inventario non ancora pubblicato dalla sovrintendenza archivistica di Bologna dell'archivio della comunità ebraica di Modena. Io lo guardo con stupore e dico ecco, è la corrispondenza di Villa Emma. Proprio quella che cercavi. Sì, figurati. E così poi con tutta una serie di raccomandazioni, da quella di Luisella Mortara Ottolenghi, presidente del CEDEC, a quella del sindaco di Nonantola, ho subito avuto accesso a tutti quei documenti e sono stato in assoluto il primo ricercatore ad averli visti, prima che fossero formalmente resi pubblici. Ti rendi conto che cosa incredibile che lui si sia ricordato esattamente di me e dei miei studi di 30 anni prima?